Le più belle special dei migliori costruttori al mondo montano accessori firmati Rebuffini, una vera eccellenza del custom made in Italy. Siamo stati in provincia di Bergamo presso l'azienda Tilibio e Dianira Rebuffini per scoprire il segreto del loro successo. Prima però ricordati di iscriverti al canale, attivare la campanella e mettere un bel like. Da officina meccanica a specialisti nella progettazione, Rebuffini è un'eccellenza italiana del settore custom conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Dopo 12 anni di esperienza nella produzione di parti speciali per Harley Davidson, nel 2015 la svolta. La costante ricerca, lo studio approfondito dei materiali e della loro lavorazione confluiscono nella realizzazione di accessori performanti, dalla spiccata personalità ma anche customizzabili e disponibili in numerose varianti di colore. Creare prodotti unici, fortemente connotati nel design e definiti nella loro originalità è il tratto distintivo dell'azienda, un vero punto di forza. Da queste premesse prende forma la prima pinza freno radiale, che diventa subito un best seller. Grande performance, massima rigidità, una pinza equipaggiata con paraolio e parapolvere. Affidabilità, sicurezza, prestazioni e design. Quattro parole chiave che definiscono la filosofia costruttiva. Parole che danno voce ai prodotti. E come dice Livio Rebuffini, Il vero marketing della nostra attività è un prodotto stesso. E dopo la pinza radiale, la forcella a steli rovesciati. Totalmente personalizzabile grazie alle infinite combinazioni cromatiche dei suoi componenti. Una caratteristica, questa, che la rende unica al mondo. Un altro segreto della Rebuffini sono i suoi collaboratori. Un team con cui si è creato una forte sinergia. Ci confrontiamo tutti i giorni per migliorare i nostri prodotti. Grazie. Grazie. Grazie.